Razzaro! Razzaro! Vediamo perché è scomparso un ragazzo, una persona importante, un marchese. Lui è il marchese Tancredi de Luna, è il padrone dell'Inviolata. Gli esseri umani sono come bestie animali, liberarli vuol dire renderli consci della propria condizione di schiavitù. Razzaro! Lazzaro! Ma tu sei? Lazzaro! Lazzaro! E' Grazie per la visione! Grazie a tutti!